Difficile, difficile l'ufo Anzi, Costale mette uno di quei pochi livelli che ho flucato, incredibile Ma beh, si può flucare, dai, la ball finale te l'impari una volta, te la... Te ricordi della distanza di anni Ma non è che la leadership alla fine, devo muovere anche la ball Ma è pagata un po' quella ball No Ma che è pagata, è fatta... cioè l'hitbox non sono proprio facile da capire Jack KGD perché veripid vai volati Vai Sharda, se vuoi fare te la mia parte finale Sì, già Sharda deve fare 3 parti, deve fare anche la parte tua E cosa mi devi fare la ALP, ALP che ne fa a 20 Raga, ma ne do... ma ne dolti la musica di... coloro full over Damoclonadolta Non c'è un coloro full over da cinque anni Shark, tanto ne facciamo tutti una marea sia io sia ALP sia ROYAL Non si è mai stata la loro seconda di color full overnight su Newgrounds Jack GD, perché mesi mesi fa me lo doveva verificare lui Ma dopo non ho più finito il livello e quindi buona Shard, ok Chris la prendo io l'ultima che avevo anche un'idea Ok, va bene Allora io ufficialmente abbandono Shiftora Cioè rimango come playtester se volete Alex Ok, ok Ciao Alex Allora, non scopo anche sul server Che lascio la mia parte a te e rimango come playtester Va bene Ok, lasciando la parte Lascia Shard Guardate anche questo mola volante Shard, si tratta Tu nutto ma ti sottometti così Non è che mi sottometto così Soprattutto perché il PC non collabora E il tuo PC lo devi far sottomettere Chris Non posso sottomettere più PC Tu nutte devi picchiarlo L'ho sottomesso già per un po' di tempo Però si è ribellato Ho fatto un colpo di stato e... Comunque Chris Sto facendo una cosa epica Sicol 12 Ho rifatto 41 su Niflime Voglio morire Chris sto... Stai invadendo Niflime 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 Shard Sicol il 43 è l'unica cosa difficile di quel livello Comunque... La livello a vista sembra difficile Comunque... La livello a vista sembra difficile Comunque... Chris... Ok chi è che ha detto che Niflime fa schifo Secondo te... No... 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 Si vabbè... Si si... Mi... Secondo te invadere lo stato del Qing 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 Kang E' difficile E' coreano E' il Qing Qing Kang cos'è? E' il Qing Qing Kang cos'è? E' il Qing Qing Kang E' tipo il... E' tipo il... E' esplosillire E' tipo... Ehm... Vincining Vincining Sicol 12 E' 2.0 E' 2.0 Quel livello costante significa un brutta deco E' effettivamente E' effettivamente E' effettivamente E' essere un 2.0 Non è neanche fortissimo C'è... 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 Ma vai a cagare! Heinz regna! Non si tocca Heinz! Eh... Ha perduto la cacata! Ha perduto la nominchiata in video! Sto registrando! Di che... T'cai pens师 di continuerà! A C'è... Il Grazie a tutti.